Namaste! Iscriviti al canale e attiva la campanella! Oggi il nostro maestro Maikuru Ji ci parlerà dello zucchero di canna. Un alimento che tutti abbiamo in cucina ma di cui ignoriamo la provenienza. La canna da zucchero in India è detta Ganna. La si può trovare nelle zone tropicali e in Asia poiché cresce in primi caldi e umidi. Voi sapete com'è il zucchero di canna? Noi quello che il zucchero mangiamo, questo colore bianco, vengono in formata. Io presenterò oggi in questo zucchero di canna, in questa vera zucchero di canna. In India, in Ayurveda, molto utilizzata per curare. Voi sapete, dal nostro mondo c'è una malattia, si chiama inglese, che chiamano hello fever, febbre giallo. In tanti parti, dal mondo, questa malattia non c'è cura, non è medicina. An Ayurveda, anche in ospitale, consigliano il mangiare, bere, succo di zucchero di canna. Noi in Italia, ogni 10 su 3 persone trovate in glicemia in alto. Perché quello che il zucchero di noi mangiamo colore in bianco, è veramente un velenoso. Che in India, c'è persone che soffrono di malattie di zucchero e di glicemia alta, no? Per noi, i medico consigliano questo tipo, si chiama augur. In questo augur, non solo pervengono mangiato così normale, pervengono un sacco di malattie curati, polmone, gestione, tiroides, il problema del glicemia troppo alto, qua mi dici che devi evitare medicina, zucchero. Venga, consigliamo, perché mangiate questa cosa, non si danno il controeffetto di problema in malattia. Perché zucchero noi danno tanto problema? Perché vengono fosforo e rascriato, chemiche, vengono formato. Poi tanti bar, restaurant, se non andiamo, che adesso, se vuoi zucchero normale, è lo zucchero di canna. Per questo vengono affumicato. Voi in casa, voi provare un giorno. Prendete una ciotola di zucchero bianco, attostate, vedete che colore diventa? Diventa colore morrone. Il zucchero è sempre rimasto zucchero, non è il zucchero di canna, quelle che noi impresentiamo. In questo proprio zucchero di canna in vela. In questo solo vengono fatto succo, una media temperatura vengono a fare bollita. Quando vengono bollita, vengono a fermo, inseccato. Dopo, quando prendi aria, in questo colore diventa. Perché c'è tanti colori, questi, rosso, bianco. Questo, il zucchero di canna, da noi, in India, bevono tantissimo porso nel succo. Speciale quando si troppa temperatura in calda. In questo colore di temperatura in calda, uno bicchere di succo ti danno una gioia, un amore, di una carica più forte. Qualche cosa di zucchero di canna? Momenta di vivere dalla vita più di 100 anni. Presento e lo spiegolo a una signora della Ghile, a 114 anni. e come taglia sui denti, anche come si mangia succo di canna. canna da naina. Questo è un video solo per voi in capire, perché mi piacerebbe, la nostra Europa e l'Italia, di riconoscere tutto in proprietia di Ayurveda. Dove troviamo questo zucchero di canna? Dove troviamo questo zucchero di gur? Ok? Contattaci noi. Noi consigliamo come, con docchi, con tita, a mangiare. Bambini, hai mal di pancia? Fate mangiare questa cosa. Vedete com'è dato il risultato. Perché? Uno dolce, mille guro. Grazie tanto. Namaste. Ti è piaciuto il nostro video? Metti un bel like e condividi. Ciao.